Presentato a Teramo i componenti del Comitato Interistituzionale Sisma 2016 dal Presidente della Regione Marco Marsiglio e dal Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Vincenzo Rivera e dal Dirigente Pier Giorgio Tittarelli, il piano da 195 milioni di euro stanziati per la ricostruzione dei guamenti sismici per 46 scuole abruzzesi, in gran parte nel Terramano danneggiate dal terremoto del 2016-2017. Si tratta dei fondi dell'ultimo piano stralcio dei finanziamenti per l'adeguamento e il miglioramento sismico del patrimonio scolastico, licenziato dalla cabina di regia della struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini. Noi dobbiamo affrontare con i sindaci vecchi e nuovi il tema del nuovo programma delle opere pubbliche, in particolare delle scuole. Gli presenteremo un programma che sulla base della disponibilità finanziaria oggi esistente ci consente di dare risposta al 100% dell'edilizia scolastica che potrà essere quindi ricostruita, ristrutturata, messa a norma e in sicurezza antisismica. Un grande obiettivo, un grande risultato che spero che i lavori possano partire subito e che da qui a un paio d'anni possano consegnare a tutto il cratere e a gran parte dell'Abruzzo scuole sicure e efficienti per tutti. Un incontro del Comitato Istituzionali in presenza dopo tanto tempo, convocato dal Presidente, lo avevamo chiesto, è utile per un confronto programmatico, per fare il punto su tutte le cose che sono state fatte finora, tantissime, i risultati importanti che abbiamo ottenuto, penso al contratto di sviluppo, penso al PNRR Sisma, ma anche fare integrare i nuovi sindaci, come giustamente ricordava lei, e definire oggi il tema relativo alle scuole. Oggi si fa il punto sul piano delle scuole sicure, sul censimento che è stato fatto, quindi scuole aggiuntive rispetto a quelle già finanziate, quindi un'occasione importante intanto per pianificare la valorizzazione del patrimonio scolastico della quota, del cratere relativo alla nostra regione. Questo cratere, il cratere abruzzese, è un cratere che grazie ai sindaci è riuscito a dare una svolta con il lavoro del Commissario Legnini nel corso di questo ultimo anno e mezzo, dobbiamo proseguire in questa direzione, prendendo anche atto e spunto dalle parole del Presidente Draghi, che ha ribadito come il tema della ricostruzione deve essere una priorità dell'agenda di governo.